Commento al Vangelo di venerdì 28 ottobre 2022, a cura di Don Vincenzo Marinelli. Da lui usciva una forza che guariva tutti. Molta era la gente che cercava Gesù e giungeva anche da molto lontano per incontrarlo. Questo avveniva perché da Gesù usciva una forza che guariva tutti non solo dalle malattie fisiche o dalle possessioni diaboliche, ma anche le sue parole e i suoi insegnamenti aprivano il cuore e davano serenità all'anima. Per quale motivo tu sei ricercato dagli altri? A volte i nostri modi di fare, le alterazioni del nostro carattere, impediscono agli altri di sentirsi a loro agio accanto a noi. Non solo non riusciamo a guarirli, a dar loro serenità, consolazione o speranza, ma probabilmente offriamo loro disagio e malessere. Ti preoccupi con che spirito l'altro si congeda da te? Come si sente dopo averti incontrato? Anche se sei di malumore per alcuni motivi, non permettere che chi si avvicini a te sia vittima di qualcosa di cui è incolpevole.